ben tornati siamo qua giovedì pronti a spacchettare allora siamo oro 3 in weekend league ottimo per me sempre ottimo volevo fare qualcosa in più ho fatto 15 vittorie non ce l'ho fatta a continuare però prima di andare qua andiamo pure con le digital rivals a prendere i pacchetti come al solito non scambiabili perché ci hanno bannato niente di che poche sciocchezze e poi vorrei farvi la squadra settimana che è nuova vediamo se ce la fa vedere a portano pure ai future star da spacchettare trovare qualche carta allo di buono ci sta il bebe baran morales bello sub po de pai e sterling e poi ci sta per in che ha parlato anche tutti ti denaro che si ha giocato un po maluccio però ha parlato tutti peggio di ripoteva parare questo e spero che potrebbe capitarmi per perché mi serve come carta la preferisco come portiere seria provandolo può essere pure che mi servi come carta che buona sperando che sia pagato quanto proprio quanto consigli andiamo con i primi due giocatori e poi teniamo tutti i pacchetti da aprire andiamo con il primo vai 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 che buono vai che buono ma che buono ma che buono ma che buono ok ci da 84 insami e buono bene già si sta trovando 84 che buono andiamo col secondo vai dai 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 sei la sera 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 francese la nota la bordo è però tra gelino e giudici giudici è meglio 77 per il più boccato 83,80 però andiamo con gelino ci vediamo 80 di tanto non ti userò mai però possiamo dire che sono andata abbastanza bene diciamo abbastanza bene ma andiamo con lo spacchettamento di questi nuovi pacchetti per andare a trovare un foto storia poi vi lascio in un video fatto in settimana sempre senza l'audio la registrazione mia che ho trovato un foto storia non vi svelo nessuno che andiamo col primo maxi non è niente no ok poi con tutti i pacchetti che ricicliamo con i giocatori facciamo anche i 81 o più e voglio fare un botto un botto perché sono veramente buoni quei pacchetti e possiamo trovare veramente carte buone il primo non è niente andiamo col secondo poi abbiamo quattro tre oro ma giocatori da 50 mila buono andiamo col secondo maxi non è la magna neanche allora ok grazie grazie ottimo la vita dura ma sono uscite belle cartine ma neanche uno raro oppure ce l'ho neanche un raro minchia minchia veramente dio ok poi andiamo con mega mega zinconari zinconari no andiamo con i primi zinconari poi ci andiamo col mega andiamo a vedere per se ci porta bene non è walk out neanche lavagna però è champions no libertatore dovrebbe essere quanto di libertadores allucinante come un pacchetto da 50 mila è garantito libertadores e lava di freman a mani credito la città andrea o berlin diciamo carte poco scadenti scadenti andiamo con un altro zinconari la lavagna me la devi dare però non posso aspettare qua che non mi dia nulla perché dai non è walk out pre lavagna ok if buono if è ottimo giorge vici giorge vici ce l'aveva dato visto non ce lo deve dare per forza giorge vici ma non sbaglio questo non è quello della non è durjevic ma giorge vici ok sono contento che me l'ha dato qualcuno doveva dare che l'ha dato speriamo mi dà pure un portiere un altro libertadores potremmo mancare libertadores no ok mondo ha finito con i due zinconari andiamo con 2 mega e poi andiamo gli ultimi 3 da 50 mila andiamo col primo mega dai dai un coltino di prego di per noi walk out e lavagna ok il semplice argentina attettante i cardino iguain mamma mia che pacco è credibile proprio lui i guain il pacco adesso ormai ce l'ho non c'è la doppia no che non è la rumorata pure non sembra nulla 4 doppi e vediamo chi sono questo non lo vengo e poi ci partiamo tutti è buono perché quello si può fare la sfida andiamo con l'ultimo mega e poi 3 da 50 mila minchia se non mi da meno la walk out vuol dire che poco il gioco fa pino andiamo qua con mega non è walk out e neanche lavagna e un altro libertadores va bene ormai ha fatto una pancia piena di questi libertadores e niente il gioco dice che deve andare così va così se non va così non va così e questi pure al tanto di un grip ok allora sono 350 mila ma lo dico di trovarmi tre walk out in questi 50 mila che non penso che mi darà tutti tre walk out però minchia uno lo potresti dare ok andiamo quello di mezzo e poi metto ma anzi non lo guardo dai sia una carta buona sai come sottiamo no ok speriamo un bel celestino un bel cestino io no ok a chi mi ha 83 detto boh mo ci dà una carta buona ci dà un 83 un 50 mila che se vai vedendo non serve a nulla se lo vado a scartare non prendo neanche stessi soldi vicino a due dell'inter che mi deve dare una domorata va bene questa è una fregatura però ho trovato l'unico scambiabile buono questo qua che sono gli unici che si possono anche vendere però non li possiamo vendere ok andiamo gli ultimi due uno ce lo guardiamo e uno non ce lo guardiamo dai vuoi vedere com'è fatto neanche lavagna dopo l'83 capito ti ha dato una grande lavagna dopo l'83 città carrasco 82 giustamente ha dato 83 non trovo di andare alla lavagna ma quanto sia un fenomeno gioco ma veramente sia un fenomeno è un fenomeno gioco diamo l'ultimo e poi penso che questo back open sarà a fine sua non lo guardo adesso basta più fortuna un foto star per scrivere almeno il titolo trovate due che vuol dire almeno qualcosa di buono non vedo nulla è un 83 semplice hanno 85 però è un pacchetto da 50.000 se mi dai 85 non è nulla mi lascio due pacchetti piccolini ma non è un pacchetto di buono sono carte di non valgono nulla questo lo scaccio che non lo voglio mettere trappi non lo posso vendere no niente è un pacchetto di tutto 0 0 poco 0 avevo 33.000 e ci andiamo a fare un bel sfido con il draft poverete in settimana tempra e che finiamo qua il pack open e poi nel caso vi metterò qualche pack open fatto in settimana e uniamo tutto perché il contenuto non c'è qua 85 che me lo tengo a fare datemi un po' di tempo che faremo anche il secondo contenuto e invito solo a lasciare like e iscrivervi al canale e fatemi sapere voi cosa avete trovato in questo periodo